Salari più alti per i lavoratori altoatesini, così da evitare l'abbassamento della qualità della vita e il rischio di povertà diffusa. È questa la richiesta dei Frei Heitlichen avanzata in una mozione presentata in Consiglio Provinciale a Bolzano. I rincari energetici, i degeneri alimentari e un'inflazione che non accena a diminuire stanno portando sempre più cittadini a non riuscire ad arrivare a fine mese. Una disparità tra costo della vita e stipendi che in Alto Adige cresce sempre di più. La Giunta deve capire che la nostra gente non riesce più a campare. La nostra gente si è faticata e non riesce più a... sta lavorando dalla mattina alla sera, i costi aumentano, però gli stipendi sono sempre gli stessi. E se noi facciamo il confronto con tutti questi altri paesi, sia l'Austria, sia la Svizzera, sia la Germania del Sud, da noi non succede mai niente. Noi siamo ormai un paese veramente di stipendi bassissimi, però costi della vita più alti di tutti. Una situazione con l'Alto Adesina fotografata bene dal confronto con la vicina Baviera o Austria. I nostri medici, per esempio, guadagnano il 40% in meno che un medico nel Tirolo, il 70% in meno a un medico della Bavaria e l'80% in meno a un medico in Graubünden, Svizzera. Più o meno la stessa cosa vale per gli insegnanti, per i camerieri, diciamo un po' per tutti i settori. Secondo i Freiheitlichen il rischio è anche quello di una crescita della fuga di cervelli. La richiesta alla Giunta Provinciale è quella di trattare con lo Stato per abbassare la tassazione sugli stipendi lordi ed introdurre un aumento salariale provinciale di almeno 100 euro per tutti i settori privati. Un elemento che costituirà criterio obbligatorio per le aziende per beneficiare di contributi pubblici e non solo. Questo elemento salariale aggiuntivo sarà adeguato annualmente all'inflazione e costituirà un credito obbligatorio per la partecipazione delle imprese alle gare d'appalto pubbliche nonché una condizione per poter beneficiare di contributi pubblici di un'aliquota IRAP ridotta.